Secondo diversi studi appunto il dolore orofacciale cioè nel distretto della testa del collo sarebbe più frequente nel sesso femminile. Nella stragrande maggioranza dei casi la causa principale di dolore orofacciale è rappresentata da quelli che sono i disordini cranio-mandibolari, problematiche di competenza soprattutto dell'odontoiatra per cui appunto una visita dall'odontoiatra potrebbe ovviamente esserti utile. Le cause alla base del dolore orofacciale e dei disordini cranio-mandibolari ovviamente sono diverse, non esiste una sola causa ma sicuramente stress, ansia, depressione, traumi e così via possono ovviamente influire su tutto ciò. Ma perché sentiamo dolore? Perché appunto significa appunto che c'è un qualcosa che non va. Normalmente noi avvertiamo dolore quando c'è un potenziale danno tessutale quindi quando c'è appunto un danno a carico di un organo, di un tessuto, l'organismo reagisce facendoci sentire dolore attraverso dei recettori che abbiamo nel nostro corpo che captano il dolore questi recettori prendono appunto il nome di nocicettori, inviano queste informazioni al nostro sistema nervoso centrale. A livello del volto il dolore è mediato da un nervo che prende il nome di trigemino solo l'angolo della mandibola è innervato dai rami cervicali. Per cui andando appunto dall'odontoiatra da colui anche che si occupa non solo l'odontoiatra ma da colui che si occupa di oro facial pain cioè dolore orofacciale, ti porrà 5 domande. Cosa, dove, come, perché, quando, ma non perché è uscito pazzo appunto ma semplicemente perché appunto deve capire che cosa ti provoca dolore, in quale punto, com'è questo dolore perché hai questo dolore, c'è qualche fattore che lo scatena o no e quando avverti questo tipo di dolore quindi ti farà quella che viene definita come anamnesi medica. Ma ovviamente l'anamnesi cioè la storia clinica del paziente, quello che ci racconta il paziente, non basta, basta, cioè non basta, serve anche ovviamente anche una visita e quindi ti farà un esame molto approfondito. In casi particolari possono essere richiesti altri esami aggiuntivi di laboratorio o esami strumentali. Ti chiederà per esempio quanto senti dolore da 1 a 10, questa viene definita a scala VAS, Visual Analogic Scale praticamente. E poi vedrà se avrai per esempio delle cicatrici sul volto, un volto asimmetrico, se il volto appunto è tumefatto, ti palperà i muscoli masticatori per vedere se sono dolenti, ti palperà l'articolazione temporomandibolare, valuterà il suo range of movement, cioè se l'apertura della bocca è buona, vedrà se ci sono dei rumori a carico dell'articolazione, andrà a valutare anche diciamo l'assessment psicologico per vedere appunto se abbiamo la presenza di fattori esterni come lo stress. Importante è anche escludere le cause dentali, quindi un problema ai denti che può causare dolore, bisogna appunto verificare che non ci sia niente di problematico a carico dei denti. Ovviamente il dolore orofacciale può essere classificato in tanti modi, è una classificazione molto ampia e complessa, non starò appunto in questo video a spiegarvi diciamo quali sono diciamo le varie classificazioni dei vari tipi di dolore orofacciale, ma rimani sintonizzato sul mio canale perché appunto nei prossimi video ti andrò a parlare appunto di varie algie, di vari dolori orofacciali, per esempio delle cefalie, dell'emicrania e così via. Farò dei video molto pratici e brevi che ti possono dare appunto delle informazioni utili. Se il video ti è piaciuto lascia un mi piace, iscriviti al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!